Una giornata per riflettere sul ruolo della donna nella società e celebrare una commemorazione importante in onore di tutti coloro che hanno lasciato un contributo importante alla società in termini di memoria storica. Si è svolta l'istituto alberghiero Luigi Sturzo di Gela che ha visto la partecipazione attiva di studenti e di insegnanti. Vogliamo celebrare la giornata della donna con uno spettacolo che si chiama Donna nel tempo attraverso un reading di poesie, attraverso balli, attraverso canzoni che comunque in qualche modo ricordano e celebrano la donna nel tempo. Quindi si va dalla poesia di Dante Alighieri alle poesie dei contemporanei, dalle canzoni che poi i ragazzi conoscono un po' tutti che parlano di donne e anche i balli alle coreografie fatte dalle ragazze, insomma tutto un lavoro femminile. Noi ci esibiamo, cantiamo, recitiamo delle poesie, tutto quello che si può per divertirci, insomma. Lo scopo di questo progetto non è solamente ricordare la donna, tutto quello che è successo alla donna, ma è sensibilizzare i ragazzi a farciò che tutto quello che è successo non si ripeta più. Io sono Giorgio della Quinta Sala, oggi sarò in veste di cantante e barattrice. Questo spettacolo a mio avviso è uno spettacolo molto serio e molto sentito.